Gentili telespettatori, ben trovati. Oggi ospitiamo Carmine Sant'Angelo, il neopresidente dell'ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili di Vallo della Lucania. Lo abbiamo incontrato due mesi fa dopo le elezioni e lo ritroviamo oggi per fare un bilancio di quelle che sono state le attività, di quelle attività che hanno appena attivato appunto con la nuova gestione. Carmine, ben trovato. Sì, buongiorno, salve a tutti. Allora, innanzitutto mi fa piacere sempre incontrarti e te lo dico davvero con amicizia, con grande stima che ho nei tuoi confronti, soprattutto perché io lo ricordo sempre, ci hai tenuto compagnia durante il lockdown davvero in modo davvero impeccabile, ci ha fatto capire insomma quelli che che erano un po' anche tutti i concetti, no? Del vostro lavoro, abbiamo parlato moltissimo anche del bonus, dei vari bonus e quindi è sempre una gioia insomma ospitarti su Cilento Channel. Oggi però con te ecco facciamo subito un breve bilancio di questi primi due mesi di gestione del nuovo ordine Odcek Vallo della Lucania. Allora, cosa ci puoi raccontare? Sì, dopo ecco appunto due due mesi dal rinnovo del Consiglio dell'Ordine, un rinnovo nella sua maggioranza anche se siamo a secondo mandato, porta delle importanti novità, novità anche riferite proprio a ieri dove abbiamo insediato il nuovo Consiglio di disciplina dell'Ordine che è stato nominato da parte del Presidente del Tribunale di Vallo della Lucania e che è un organo importante per noi ma soprattutto a tutela della fede pubblica, cioè di chi si rivolge ai dottori commercialisti sapendo che si può poi appunto rivolgere a questo organismo nel caso in cui il collega eh non si comporti bene ecco diciamo diciamo così ma eh si tratta di un organo che ha delle competenze molto molto più eh ampie e che appunto vigila sul comportamento corretto eh non solo nei confronti del cliente finale ma soprattutto nel rispetto dei vari regolamenti che noi eh abbiamo che sono dei regolamenti molto digini in tema di eh deontologia incompatibilità eh eccetera e quindi è importante ed è per questo che io rivolgo sempre l'invito in ogni occasione che tu mi dai eh a rivolgersi a un dottore commercialista perché appunto ci sono delle garanzie in più. Poi importante anche eh novità proprio di ieri abbiamo avuto un incontro nel Tribunale di Vallo della Lucania alla presenza del Presidente del Tribunale del Giudice delle Esecuzioni per illustrarci la partenza delle nuove aste telematiche che è un altro argomento molto importante parliamo quindi di esecuzioni immobiliari di quando un eh una persona fisica un soggetto chiunque esso sia non può onorare i propri debiti e quindi il creditore eh va via la procedura di esecuzione cioè pone in vendita l'immobile e chi ha avuto occasione di eh vedere un po' navigando sul web sono tante tantissime in tutta Italia gli immobili posti in eh in vendita ma veramente tanti e quindi la procedura che oggi era eh un poco più diciamo di tipo cartaceo oggi diventa una procedura telematica perché è prevista dal nuovo codice di procedura eh civile e quindi si appoggerà su un sito direttamente gestito dal Ministero della Giustizia di Roma quindi tutte quante le domande andranno a questo sito e poi con un sistema diciamo di software particolari torneranno indietro al Tribunale di competenza e questo dovrebbe dare ancora maggiore eh garanzia di 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 serietà della vendita di trasparenza di imparzialità ovviamente tutto questo ha un costo ha un costo in termini di burocrazia perché la procedura è una procedura un pochettino più complessa e quindi bisognerà sicuramente rivolgersi a qualcuno che come noi la stiamo studiando per poter poi partecipare diciamo alle vendite. Un'altra notizia ancora più importante invece è la il rinnovo del referente dell'OCC l'OCC è un organismo di composizione della crisi che noi abbiamo all'interno del nostro ordine e che è unico in tutto il circondario del Tribunale di Vallo della Lucania. Eh abbiamo provveduto a nominare il nuovo referente che è una persona molto competente ed esperta in materia ed abbiamo provveduto ad avviare un corso di formazione per i colleghi di quaranta ore e questo abbiamo fatto in collaborazione con altri ordini perché eh purtroppo all'ordine di Vallo da solo non riesce a organizzare corsi di formazione così impegnativi e così qualificati e che cosa succederà? Succederà che nel momento in cui una persona fisica diciamo noi li chiamiamo soggetti non fallibili cioè eh anche imprenditori quindi che però sono piccoli imprenditori e che non hanno i numeri previsti dalla legge fallimentare oggi codice della crisi d'impresa per eh fallita per essere assoggettati alla procedura della crisi d'impresa appunto perché la parola fallimento è scomparsa dalla nuova legge e potranno rivolgersi per i loro problemi finanziari al OCC cioè a questo organismo che noi abbiamo presso il nostro ordine non potranno più rivolgersi al Tribunale perché quando c'è un OCC nel circondario OCC si rivolge direttamente all'OCC e non più al Tribunale e potranno ehm fare una proposta eh per dire io ho questi debiti però dispongo solo di queste risorse per cui eh è inutile che voi mi chiedete tutti quanti i soldi perché purtroppo io non riesco più ad onorare per intero i debiti e quindi magari si può offrire una percentuale dice io posso pagare il cinquanta per cento oppure si può anche dire io ho una casa prendetevi la casa vendetevela quello che ricavate ve lo prendete voi però mi liberate da tutti i debiti in modo che io possa continuare in modo eh diciamo finanziariamente pulito eh e quindi ci sono questi vari diciamo metodi per cui si presenta un piano dove si illustra questa modalità e quindi è l'esdebitamento cosiddetto poi c'è il piano del consumatore vero e proprio cioè quando appunto un consumatore finale un cittadino eh ha esagerato un po' con le rate per la televisione per il telefonino per la macchina e altro poi si rende conto che purtroppo o perché è venuto meno il lavoro o si è ridotto il reddito o per altri motivi eh non può più onorare queste rate ecco può presentare questo appunto lo piano del consumatore rivolgersi a questa procedura siccome riteniamo che purtroppo purtroppo ce ne sarà molto bisogno perché noi ancora non abbiamo visto tutti gli effetti di questo brutto periodo che insomma ha finito quasi il diciamo la crisi sanitaria purtroppo continua come crisi economica al di là dei nuovi eventi che sono subentrati che sono sicuramente delle aggravanti però già già da prima eh insomma erano un po' previste e programmate questi effetti indesiderati della della pandemia che si sarebbero rivolti sul versante diciamo di tipo finanziario infatti noi eh come commercialisti stiamo anche insistendo a breve avremo le elezioni del consiglio nazionale questa è un'altra unità quindi avremo finalmente una forte rappresentanza però siamo già insistenza sul fatto che le risorse messe a disposizione dal governo in termini di finanziamenti finanziamenti covid cosiddetti purtroppo non sono stati sufficienti e infatti già con la legge di bilancio il problema è stato affrontato con un ulteriore stanziamento però noi riteniamo che sia troppo restrittivo cioè dedicato solo a determinate situazioni particolari ma sicuramente ci sarà bisogno che il governo intervenga ancora nel finanziare alcune eh aziende e di questo ne parleremo sarà oggetto anche di un convegno perché noi eh abbiamo posto il punto su una questione cioè è corretto finanziare tutte le aziende indistintamente cioè anche quelle che si sa già che non potranno eh eh fare un piano di risanamento che li riporti in bonus oppure bisogna finanziare solo le aziende eh diciamo che hanno la possibilità di eh risanarsi è una domanda difficile eh da rispondere un po' come quando in periodo di pandemia i medici dicevano dobbiamo decidere chi salvare insomma e e qui non è la vita umana è la vita finanziaria economica di un'impresa che comunque ha dei risvolti sicuramente molto importanti eh sulla sull'economia e soprattutto sull'occupazione quindi poi di conseguenza sulle famiglie e quindi potrebbe generare una nuova spirale di 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 chiusure di aziende ma non per motivi sanitari ma per motivi finanziari quindi ci sono una serie di unità l'ordine si sta impegnando davvero per avere come dire un ruolo su questo su questo territorio e dare il proprio contributo a quella che sarà la ripresa e lo sviluppo possibile del nostro territorio. Un contributo ma anche una grande mano insomma all'economia soprattutto locale Carmine. Io eh ti ringrazio devo dire che siete partiti spediti in questi due mesi con tutte queste novità devo dire anche ai nostri telespettatori che il sito internet è molto aggiornato quindi potete visitarlo spesso insomma per eh capire come si sta muovendo l'ordine ma anche per percepire informazioni importanti per tutti quanti voi e siccome gli argomenti sono tanti abbiamo deciso no Carmine che eh Cilento Channel si occuperà di fare una rubrica settimanale il giovedì per approfondire il singolo argomento quindi noi Carmine diamo appuntamento ai nostri telespettatori a giovedì eh ventotto aprile giusto? Dovrebbe essere il ventotto aprile controllo eh sì ventotto aprile e e parleremo di cosa Carmine? Lanciamo questo argomento quindi? Beh possiamo iniziare a parlare appunto del nuovo consiglio di disciplina e di questo ruolo è una cosa che apparentemente potrebbe non interessare eh gli ascoltatori quindi i cittadini ma scopriremo che non è così perché il consiglio di disciplina non è solamente un qualche cosa di interno nostro che ci teniamo noi nascosto ma che come dicevo prima è un qualche cosa che va e che è stato disposto dalla legge a tutela appunto della fede pubblica cioè di chi si rivolge ad un professionista dottore commercialista esperto contabile benissimo buon lavoro Carmine e a giovedì a presto a presto a presto a presto Grazie a tutti